Musica 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 Buon appetito sono dopo il video oggi siamo nella seconda parte del video cazzeggio di GTA ragazzi dove provavamo a rubare il jet di Ford Zancudo portarlo all'aeroporto e signare la polizia portare adesso ho aggiornato portare il jet all'hangar di Sandy Shores quello di Trevor tenerlo lì perché così salva e poi usarlo quando sarà necessario ragazzi l'altra volta non ci siamo riusciti e vabbè quindi adesso scusate ma devo andare a vedere un messaggio e censure no ovviamente ok ragazzi era solo un mio amico quindi adesso ritorniamo con Michael vabbè check point era un po' comunque ritorneremo con Michael riprenderemo la T20 faremo un po' di casino dovremmo cercare di sgombrare la pista di volo quando prenderemo il jet perché facendo tanta rissa poi i veicoli restano tutti come si dice proprio intrecciati ecco davanti alla pista di decollo quindi ragazzi dovremmo cercare di sgombrarli e poi atterrare il più veloce possibile perché appena noi decolleremo ci sarà l'altro jet che ci tirerà missili e quindi ragazzi sarà un po' un bordello però noi ci riusciremo quindi noi ci vediamo dopo e è buon ciao ragazzi ho 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 I'm coming che bel piede che c'è ragazzi andate a vedere spoiler da meno in comment perché sono andate a vedere aspetta sono andate a vedere io vengo lì e vi stacco e stacco le ragazze e vi stacco tutto e andate a vedere ma ragazzi ci siamo siamo con michael quindi adesso andiamo a vedere il nostro un po' il nostro inventario ok abbiamo tutto ragazzi vediamo se si vede si si vede benissimo abbiamo tutto quindi adesso noi andremo al nostro garage prenderemo la t20 no perché avevamo anche la macchina della polizia qua potremmo travestirci la poliziotto però il gioco non è ancora finito il gioco quindi non possiamo perché sbloccheremo il vestito a poliziotto cioè il vestito di quello che controlla ragazzi ok quando arriviamo ve lo faccio sperare ok ragazzi osservate bene questa macchina osservatela perché fra 3 e 2 perché fra 3 secondi si trasformerà in una t20 3 2 1 eccola qua la nostra t20 ragazzi ok adesso dobbiamo selezionare la meta che è allora noi ci fermeremo ci fermeremo esattamente qua perché forza un cudo inizia più o meno lì adesso vi ricordate quando eravamo con Castro ok ok allora dobbiamo andare a forza un cudo spegni un po' sta radio bene ragazzi adesso adesso se non mi sbaglio perché lo metterò sarà partita una musica in sottofondo a caso tipo fra 3 2 1 ecco è partita ok ragazzi andiamo ancora Castro lo porta ancora con me no no se non c'è più no 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 ci vuole ci vuole ci vuole ragazzi ok allora skip però fino a quando non arriveremo là ok ragazzi dai ragazzi un bordello ragazzi bordello e che cazzo no 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 questa macchina è stonta no 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 stiamo con camis con camis con camis no 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 che ce la facciamo dai dai imbacchiamoci nella tangenziale sulla tangenziale sulla tangenziale sulla tangenziale bene ok ragazzi ci siamo stiamo per andare a Forza Ancudo guardate che prendiamo questa questa strada alternativa oddio ok speriamo di non esplodere no 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 non andiamo nell'acqua non andiamo nell'acqua non andiamo nell'acqua oh ho fuoco bene bene ragazzi schifo va che ragazzi la situazione è critica molto critica quindi c'è solo un modo e poi farò così eh vediamoci di qua ok questa è l'unica soluzione raga ok stiamo arrivando stiamo arrivando mp mp a smell by CN ays come in visita a n sto bolli dobbiamo localizzare quel getto eccolo almeno non è sgombra è sgombrissima perfetto sì ma non metterci un sacco ok somente sono lenti uno stile ma non ok ok cacchio l'ho mancato ok 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 mi sono scordato di mettere ok mi hanno perso adesso siamo tranquilli adesso possiamo andare tranquilli ma è una città normale oddio raga ce l'abbiamo fatta no non ci credo raga non ci credo ce l'abbiamo fattutamente fatta ok ragazzi vi spiego perché andiamo all'aeroporto e non subito all'hangar di Sandy Shorts perché quando vado all'aeroporto quando vado all'aeroporto semino il livello di sospetto semino il livello di sospetto e poi sono tranquillo oh ragazzi ce l'abbiamo fatta ma sì sì il livello di sospetto non c'è più ragazzi comunque per fare una sosta lì ci fermiamo dai sì dai bra ok 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 raga oh ce l'abbiamo fatta allora come potete vedere non ci siamo fatti alcun danno il nil jette è completamente intatto e ragazzi ce l'abbiamo fatta adesso noi dobbiamo andare all'hangar di Sandy Shorts dobbiamo andare all'hangar di Sandy Shorts dobbiamo andare all'hangar di Sandy Shorts ok sì e 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 ok ok adesso partiamo ah ragazzi ce l'abbiamo fatta adesso prendiamo la via vabbè dai poi facciamo un'inversione raga l'inversione è quasi riuscita riuscitissima ragazzi ok salterò finchè non arriveremo all'hangar ragazzi non ci credo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ma no manco la scuola di volo raga e e si si raga ecco il guasto ruota terra e eh ragazzi quando stavamo proprio atterrando perchè guardate ragazzi guardate noi siamo qua dovevamo andare ci siamo fermati qua perchè ha incominciato a perdere carburante e questo fattuto oggetto mi vuole fare incazzare ragazzi oddio beh almeno ce l'abbiamo fatta ragazzi almeno ce l'abbiamo fatta ragazzi quindi io vi ricordo che potete iscrivervi commentare iscrivervi ehm si condividere e ragazzi noi ci vediamo al prossimo video qui da Dracula e da Michael e tutto mettiti il casco bravo uuuu siiii spegni sta radio siiii oh i pompieri ciao pompieri eh pompieri senti che mi stanno sul cazzo i pompieri 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 provate a spegnere questo incendio che c'avete l'autopompa provateci provateci ha 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 bastardi oh ciao trattore 130 michael de santa si vola si proprio proprio